La Puteolana 1902 batte il Monte Calcio nell'andata degli ottavi di finale di Coppa Italia con il risultato di 3-0. Primo tempo dominato sin dal primo minuto dai Granata che vanno subito in avanti con il gol di Prisco sul calcio di rigore. La Ringe viene atterrato in area di rigore dai 11 metri l'attaccante numero 9 non sbaglia. La squadra flegrea che lotta per il gol crea tante occasioni con la Ringe che sulla fascia cerca il gol. Protagonista durante il match anche Prisco con un tiro dalla distanza che finisce fuori. Nella ripresa subito il raddoppio Granata firmato dal gol di Rosolino. Una rete che non consente al Monte Calcio il gol subendo anche la terza marcatura, questa a firma di Cuomo. Il Monte Calcio non riesce a reagire nella restante parte di gara nonostante i cambi il risultato resta invariato. Ora ritorno fissato per il 18 ottobre con i Granata che sabato saranno impegnati con la Cerdanna nel big match di giornata.